Siamo con il direttore di Coeso Società della Salute, Fabrizio Boldrini. Oggi presentato il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, si parla di 23 milioni di euro da poter investire naturalmente per i cittadini dell'area maremmana. Cosa significa oggi Coeso rispetto a qualche tempo fa, vale a dire prima della riforma? Significa una struttura molto più grande che coinvolge 20 comuni rispetto ai 6 precedenti, che amplia il personale dipendente, che amplia non solo quantitativamente ma qualitativamente i servizi. Noi sappiamo che mentre le attività sanitarie sono definite da norme come livelli essenziali e quindi vanno garantiti, le prestazioni sociali dipendono dalle volontà, dalle sensibilità, dalle capacità di ogni singolo comune. Mettersi insieme è lo strumento utile. Per mettersi insieme e far funzionare bene le cose bisogna darsi gli strumenti necessari. Ancora i tre distretti non si sono unificati, o meglio, una delibera aziendale definisce la nuova zona e definisce le unità funzionali, ma ancora non sono state indicate le responsabilità e quindi continuano ad agire le vecchie unità funzionali. Questo è un problema e spero che l'azienda sanitaria in pochissimo superi questo gap. Siamo con il presidente di Coeso Società della Salute, Giacomo Termine. Da questo punto di vista un punto di arrivo, un punto di partenza e si diceva in conferenza stampa anche comunque qualcosa di incompiuto. Sì, come succede sempre in tutti i percorsi complessi, siamo ancora nella fase di start-up e non ancora al regime, ma i primi dati sono assolutamente positivi, perché con l'approvazione dei bilanci consuntivi si può vedere come le tre zone si sono presentate in maniera sana, con un bilancio in pareggio e quindi l'erogazione di determinati servizi. Ma la partita vera è il futuro, perché la somma dei tre rendiconti va a un totale di 18 milioni di euro. Già ora nel 2018 si può vedere e si ragiona di un bilancio di 23 milioni di euro, quindi maggior capacità di aggredire le possibilità di finanziamento che ci sono mano a mano durante l'anno. e per il 2019 e il 2020 all'interno della programmazione è quello di puntare tutto sui servizi, metterci ancora più risorse come comuni, avere la capacità di avere ancora più risorse da parte della regione e non solo, questo perché? Perché i bisogni stanno aumentando in segno alla società e noi dobbiamo essere in grado di rispondere a questi bisogni dei cittadini. Cosa si può proporre proprio per evitare che queste liste d'attesa diventino infinite? L'azienda sanitaria a seguito di una delibera della regione toscana entro fine estate deve presentare un piano per l'abbattimento delle liste che si specifica in tre canali principali. Il primo, attività aggiuntiva. Non si può assumere, c'è il blocco delle assunzioni, allora si deve utilizzare l'aggiuntiva, in sorta allo straordinario per il personale dipendente. Oltre questo aumentare le fasce della diagnosi andando sulla fascia serale anche e qualora non si riuscisse ancora ad avere un'efficacia come d'attesa, diciamo così, servirsi anche di prestazioni di privati perché le liste d'attesa soprattutto nella provincia di Grosseto sono inaccettabili e bisogna mettere in campo qualsiasi azione che vada ad abbattere questi tempi. La regione l'ha fatto, noi come sindaci non più tardi di ieri abbiamo chiesto all'azienda sanitaria che a seguito di quella delibera i primi di settembre l'azienda ci deve presentare quali sono le aree critiche, la programmazione e gli obiettivi di abbattimento della lista d'attesa e noi su questi controlleremo e giudicheremo l'operato dell'azienda sanitaria. Grazie.